Bene, siamo ancora qui con la Via dei Vati, stiamo preparando la nostra andata all'Expo quest'anno, sarà un incontro importante, abbiamo preparato anche il nostro roll up per dare sempre più visibilità a questo cammino. Parteciperemo a quattro giornate a Milano e abbiamo chiesto questo proposito alle aziende, alle persone che sono interessate di inviarci anche fotografie e materiali anche riguardanti il cibo, perché come sappiamo è un Expo anche sull'alimentazione. Inoltre abbiamo sempre chiesto alle aziende, alle parrocchie, ai camping, ai bed and breakfast, ai turismi, sempre del nostro territorio, non dico nostro dico della Via, e cioè chiedendo la collaborazione degli iati e degli uffici turistici da Pavia a Pontremoli, abbiamo chiesto di compilare una scheda sulle accoglienze, una scheda importante che inseriremo con la collaborazione soprattutto dell'associazione internazionale del Via Francigena che ha sede in Svizzera e poi andremo a mettere in una app, sono quelle cose che poi si scaricano dagli strumenti tecnologici, dagli smartphone. Quindi questa è un'altra seconda cosa importante sulla quale stiamo lavorando per questi territori. e ancora sono in arrivo qui in maggio, ancora prossima domenica una ventina di persone da Mantua, perché ne erano già arrivate una trentina da Piacenza, ritorneranno i cavalli, otto cavalieri che saranno a Borgotaro il primo di giugno e quindi diciamo che siamo soddisfatti, più buon dico siamo, siamo quel pugno di volontari che stanno lavorando su questa strada e penso a Emilio Di Bardi, alla Grazia Di Bardi, a Ivan, alla Raggio, a Patrizia, a Marino Lusardi, a Pier Giorgio Emi soprattutto per il sito, ecco questi magistretti sono questi nostri importanti collaboratori che ci danno insomma una grande soddisfazione, una grande collaborazione per questo cammino che davvero sta lievitando e sta camminando.